Era il gennaio del 2018 quando alcune associazioni si mobilitarono per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su quello che allora si pensava si trattasse di un atto vandalico perpetrato ai danni dell'attenso struttura che ricopre gli scavi archeologici del cofino. A distanza di due anni in occasione dell'operazione rinascita Scott, un nuovo pentito Bartolomeo Arena nell'interrogatorio avrebbe svelato numerosi retroscena anche sull'episodio del cofino. E si viene a sapere che il danneggiamento alle tende presenti nell'area degli scavi archeologici avrebbe un mandante preciso, Salvatore Morelli, detto Turi l'americano, mentre gli esecutori materiali sarebbero stati Michele Pugliese Carchedi e Michele Manco. Il tutto a danno della ditta esecutrice dei lavori. Ieri mattina molte di quelle associazioni che avevano manifestato in favore di questo importantissimo sito archeologico si sono nuovamente mobilitate per fare in modo che chi di dovere compie tutti i passi necessari per ripristinare la sicurezza di questo luogo e soprattutto che si provveda a rifare le opere di copertura del sito di proprietà comunale. Vedere tanta gente qui stamattina chiamata a raccolta, tra l'altro in maniera abbastanza semplice, significa che c'è un'attenzione straordinaria verso questi siti archeologici, ma soprattutto vedo gente nuova, volti nuovi, e questo mi fa ben sperare in un risveglio di quella municipalità alla quale abbiamo sempre fatto riferimento sin dai primi passi del nostro insediamento. È tanto tempo che i vibonesi aspettano che questo sito venga aperto al pubblico in maniera ufficiale. Con questi ulteriori danni l'apertura inevitabilmente verrà procrastinata nel tempo. Il Comune ha intenzione di chiedere ai responsabili, che ormai sembrano quasi certi, il risarcimento di tutto questo scempio? Ma certamente, a parte la problematica della Costituzione di parte civile, che ovviamente ci sarà, è chiaro, ma al di là di questo il fatto serio è che noi aspettavamo di avere in consegna questi beni, proprio per renderli fruibili a più vasti strati della popolazione e questa presa di consegna sempre allontanarsi, proprio perché in queste condizioni non c'è la fruibilità.